Guarda, siamo dei pochi, non sono venuti tranquilli a parlare, o no? Cioè, qua le fatti, scusami. E' un po' di temi? Ma noi stiamo armati da qui, ma per nessuna altra cosa. Noi stiamo armati, ecco io sono venuto pure a Milano, io sto pure a Milano. E penso a prima di parlare un'altra volta, ma mi sembra di parlare con un po' di ragazzino. E' stato che era finita, a te e come, a te, 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 a te. Ma l'altro è tu e mi dici qua che era finita la storia, no? Ma come è finita lì? C'è anche perché, che do cazzo non vuoi andare. Allora, tu mi devi dire a me, com'è che dato che era finita, quando è morto l'amico nostro, manco una chiamata. Com'era finita, tutto al posto, che ha stretta la mano, allora sono venuto a me. Com'è stesso, è morto l'amico mio. Manco se li sei toccati con un dito. E' chiaro, ma la chiamata la staccavano per molto meno, che c'ent'euro. No, voi precisi a molte cose, allora, sui siti avete un fanghiato, con l'altro caga cazzo, e caga sotto, e caga sotto, e caga sotto che non gioca, e sbaglio, non sbaglio, e diceva, non è successo niente al pubblico. Ha sbagliato. Perché? Devono dire. Ma perché non c'hanno le palle da mettere i soldi? Perché? Perché? Perché tu c'hai visto, sei scappato e hai detto che... Non sono scappato. E tu non mi riconosciva la barba. E tu a me non mi riconosci la barba. Ovidemi. A me non mi riconosciva la barba. Perché il numero di Maragascio non ce l'ha. E i feri ne hanno detto. E questa canzone per chi è? La canzone non ho fatto Maragascio. Ma quale canzone? Questo non sa il cazzo. Vabbè, con chi dove parlavi? Con chi dove parlavi? Infatti io già parlavo una volta. Mi sembrava una conoscenza, un bravo ragazzo, però voglio un po' di spiegazione. Perché io vedi? Non c'è più la pagina, la faccio solo e venga a mirano. Vabbè, non rimedi il numero. Non rimedi, non lo faccio. Chiamo qualche amico tu e faccio il numero. Non lo so che mi stai a pia per culo. Io non ne ho la faccia a parlare con me. Io sono tutte le tessi in faccia, adesso te cazzo. Fia il telefono del merda, vai. E pia il numero. Pia il telefono e rimedi per numero. La prossima ha dato un fascia, eh. Che sul boffa ti lascio per terra. Pia il telefono e chiama sto merda. Pia il telefono e chiama sto merda. Chiama sto merda, dai. Chiama sto merda. Chiama sto merda. Chiama sto merda. Chiama sto bollino. Se stanno andando a metterciato... Q. P Boldi è lo che uno da una. Questi cazzi, dei cazzi di madri. Vedi, pure del numero di questo... Vedi. Questi voi stanno andando. Ounque... Sto qui solo, cari phil. Vedi. Voglio un numero di questo, fate tanti malandrini. Voi siete bene affancazio. Poi siete bene affancazio, voi siete bene affancazio. Voi voglio il numero di questo. Ma tipo questo, sei buono affanculo. Dammi il numero di 마�ri. Pogvio il telefono a me. Non c'è l rebuilt. Stai sicuro che c'è l Down solo nous? Se hai più il telefono, c'è stato? C'è stato? C'è stato, scusate. Ma chiede cosa fai. Stai giocando a fare una malattia. Stai giocando a fare una malattia. Siamo a quest'arte di un cialetto, andiamo stretto a curare la mano, e poi manca una telefona, quando è morto, allora se ti metti, hai dei bufatti, lasci questo. Non lo stai, non lo stai, voglio parlare con Fabrizio. Stai arrivando Fabrizio, parliamo con lui. Stai arrivando Fabrizio, guarda, è l'unico scena qui. Chi è Fabrizio? Un ragazzo per bene, un'orizzona, e si appoggiano da saluto, i quattro coglioni. Se lo mettono nelle canzoni, perché sennò finiamo il posto. Fabrizio è dei nostri, eh. Fabrizio è con noi. Ciao Fabrizio.